Signore, signori, compari voi tutti, bentrovati sul mio canale e l'ora X è finalmente arrivata, anzi l'ora X era ieri alle 21.30 in sala, perché è finalmente arrivato nei cinema nostrani il film che più attendevo da un paio di anni a questa parte e quindi ovviamente anche il film più atteso da me per questo 2024, ovvero Deadpool e Wolverine. I motivi personali che mi spingono a dire questo sono abbastanza ovvi, Deadpool è il mio personaggio Marvel preferito insieme a Spider-Man e parlo soprattutto dei fumetti, ma anche i film tratti dal personaggio del mercenario chiacchierone li avevo graditi tantissimo e già dalla fine del secondo capitolo non vedevo l'ora di guardare il terzo, anzi nel secondo capitolo quel geniaccio di Ryan Reynolds aveva fatto capire di averci visto lungo perché già inseriva elementi che sapeva sarebbero potuti essere utili, dato che la Marvel aveva avviato la sua saga del multiverso e soprattutto si stava prestando all'acquisizione della Fox. Per quanto riguarda invece le aspettative più generali, questa pellicola era tesissima in tutto il mondo per motivi plurimi, anzitutto è l'unico film dei Marvel Studios ad uscire nel 2024, nonostante poi abbia anch'esso avuto delle difficoltà produttive dovute anche allo sciopero degli attori, degli sceneggiatori e nonostante questo è addirittura uscito nelle sale in anticipo rispetto al novembre che era inizialmente la data prevista per l'uscita. C'è poi un altro motivo e sì il terzo capitolo di Deadpool ma è anche il primo che vede il personaggio inserito nel contesto MCU che era una mossa decisamente rischiosa anche se poi stando ad analizzare freddamente l'opera si noterà come questo inserimento nell'MCU sia piuttosto freddo e sì faccio questo brevissimo spoiler abbastanza privo di conseguenze. C'era poi un altro ulteriore motivo ovvero la trasformazione della pellicola da Deadpool 3 a Deadpool e Wolverine perché all'interno è stato inserito il Wolverine di Hugh Jackman che tanto era stato tiserato dallo stesso Ryan Reynolds all'interno dei due precedenti capitoli e finalmente con questo terzo capitolo è riuscito a coronare il suo personale sogno anche perché questo terzo film è una sorta di Luna Park dello stesso Ryan Reynolds a cui probabilmente hanno dato carta bianca e hanno detto fai un po' quello che ti pare perché è palese che tutti gli attori coinvolti siano suoi amici che numerose battute e parti di sceneggiatura siano state scritte e volute da lui lui ha questo strettissimo legame con il personaggio lo adora ed è anche il motivo per cui è così ben riuscito sono ormai quasi indissolubili indelebili indistinguibili esattamente come Wolverine è associato ormai a Hugh Jackman e a nessun altro quindi i motivi per guardarlo erano davvero tantissimi a maggior ragione visto che proprio l'MCU stava vivendo distenti non riuscivano più ad imbroccarne una e come viene detto dallo stesso Wade Wilson nei trailer si apprestava ad essere il Gesù della Marvel a salvare tutta la baracca e in tal senso potrei quasi sentirmi di dire che ci è riuscito ma non nel senso che gli altri potrebbero aspettarsi infatti come si può notare in maniera provocatoria già nel titolo e nel mio thumbnail ho voluto lanciare uno spunto di discussione senza per forza voler acchiappare clic facili è proprio un discorso che mi preme fare perché ci ho riflettuto a lungo infatti non sapevo tra l'altro neanche se far uscire questo video oggi a caldo oppure aspettare settimana prossima dopo che avrei rivisto e fatto il rewatch della pellicola visto che molto probabilmente andrò a rivederlo domenica però non ho resistito avevo questo stromboli di emozioni al mio interno come un vulcano di sensazioni ed emozioni che avevo voglia di vomitare come lava in video e quindi l'ho fatto il giorno dopo l'uscita nelle sale italiane allora perché anzitutto ho scritto nel thumbnail no way home 2 come punto con il punto di domanda perché fondamentalmente molti anzi forse troppi sono i punti di contatto con quella pellicola e lancio un'ulteriore provocazione per certi versi no way home è anche meglio ma andrò per bene a sviscerare questo concetto a breve perché però ho detto che potrebbe essere stato il gesù effettivo della marvel e potrebbe aver salvato gli mcu lo dico semplicemente per meri motivi economici e monetari perché di sicuro farà uno sfracello di incassi e quindi in un certo qual modo ha salvato l'mcu ma a livello reale nel mondo reale ovvero ha salvato la baracca all'azienda non ha salvato l'mcu inteso come universo fantasy narrativo perché ve lo dico da adesso questa pellicola non sposta di un millimetro quel che succede nella macro trama di questa saga del multiverso che proprio non ne vuole sapere di ingranare però di contro è anche vero che questa non era certo l'opera giusta per smuovere l'universo marvel anzi avrebbe fatto più storcere il naso se fosse stato così per quanto mi riguarda e dal mio personale punto di vista volendo fare un'analisi tecnica spoiler free di sicuro brilla la regia di sean levy non me l'aspettavo sicuramente anche perché la mia regia preferita era quella del secondo capitolo venendo da un maestro degli stante e dell'action ma neanche tim miller nel primo capitolo mi era dispiaciuto ma sean levy ha una buona mano soprattutto per quanto riguarda i film di intrattenimento lui ha le mani in pasta in stranger things ho adorato il suo real steel con ryan reynolds aveva già collaborato per free guy di adam project due film piuttosto carini che mi avevano divertito quindi vederlo all'interno di questo contesto non può che essere altrettanto piacevole anzi ci sono dei picchi dal punto di vista della regia che non mi aspettavo un piano sequenza in particolare anche in realtà i titoli di coda sono davvero notevolissimi quindi complimenti a lui perché mi ha stupito mi aspettavo sicuramente una regia puntuale ma senza guizzi perché quel che contava sarebbero stati personaggi le battute invece sono riuscito a porre a notare il porre l'accento anche sulla messa in scena a livello di scenografie non c'è molto da dire perché come si può notare fin dai trailer è tutto molto piuttosto scarno e spoglio non è lì che ci che il film ci vuole stupire e meravigliare anche perché ci troviamo per tre quarti della pellicola all'interno del vuoto e soprattutto anche le difficoltà degli scioperi avranno sicuramente influito in tal senso per quanto riguarda la colonna sonora invece io sono semplicemente impazzito ma è un tratto caratteristico della saga del franchise visto che vengono inseriti tantissimi brani pop che non oseresti mai associare a questo tipo di pellicola al sangue alle battute scurrili ma proprio per questo ci stanno da dio forse sono un tantino troppe per me no perché fanno parte del dna del personaggio e dei suoi film io ho adorato ogni singolo brano musicale inserito all'interno della pellicola e sono tutti azzeccatissimi per i momenti in cui sono inseriti sono impazzito più volte ascoltando queste canzoni che non vorrei spoilerarvi ma tanto parte della tracklist è già presente online visto che viene venduto il cd con la medesima per quanto riguarda invece la questione attori ovviamente ryan reynolds e hugh jackman sono stati mattatori sono i protagonisti tutto il film è imperniato su di loro vengono anche piuttosto approfonditi anche se non in maniera eccessiva e chissà quanto si scavia a fondo però hugh jackman è quello che risalta maggiormente perché a lui vengono donate le sequenze più drammatiche più intense che vogliono essere anche le più seriose fare da contraltare a tutto il baraccone cazzaro che invece è deadpool ed è stato ed è stato bravissimo è riuscito anche a coinvolgermi emotivamente sul finale si viene trascinati emotivamente si viene toccati quasi scende la lacrimuccia per usare un eccesso perché ovviamente non è un film che può commuovere più di tanto ma sono sicuro che a qualcuno invece la lacrimuccia sia scappata e come ryan reynolds come al solito è mattatore folle cazzaro e delirante sono anche convinto che parecchie delle puttanate che escono dalla sua bocca siano state improvvisate e ci sono un profluio di battute che funzionano alla stragrande ci sono stati dei momenti in cui ero piegato in due con le lacrime ovviamente non tutte le battute fanno ridere magari alcune fanno ridere altre persone altre non fanno ridere affatto ma è così quando per due ore spari minchiate e dici 2000 battute ci sta che una percentuale effettivamente sia meno riuscita altrimenti avrebbe un ritmo talmente serrato che tutti gli spettatori si ritroverebbero pressoché soffocati dal loro stesso riso per quanto riguarda la sceneggiatura questo invece è un discorso un po più problematico che affronterò nel secondo blocco di questo video ovvero quello in cui voglio sviscerare il paragone con no way home in cui inizierò a fare anche qualche spoiler altri elementi ovviamente sono quelli che caratterizzano il personaggio state tranquilli ci sono tutti questa pellicola è intrattenimento allo stato puro ed è l'equivalente dei primi due film del personaggio sotto steroidi elevati a potenza per assurdo si è quasi voluto eccedere proprio per dimostrare che la disney aveva lasciato questa libertà creativa perché già i primi due erano eccessivi qui c'era il timore ci potesse essere qualche momento edulcorato e invece si esagera l'inverosimile anzi paradossalmente a confronto di questo terzo capitolo i film disney sembrano i primi due quindi ci sono scurrita varie smembramenti sangue scene splatter allusioni sessuali metanarrazione rottura della quarta parete tutto elevato all'eccesso anzi talvolta magari è anche un pelino troppo soprattutto per quanto riguarda la rottura della quarta parete che è un pelino troppo frequente nella prima metà della pellicola però a me non ha dato fastidio insomma ci sono tutti gli elementi caratteristici c'è un sacco di autoironia si prende in giro la marvel la disney forse è questa la maggior riflessione che viene fatta soprattutto a tre quarti di pellicola in cui si ragiona anche su quello che è il momento che sta vivendo la marvel con la sua saga multiversale quindi c'è anche qualche scelta molto intelligente a livello di sceneggiatura non di trama però questo è un altro discorso ovviamente ci sono i cameo tutti li volevano tutti li cercavano ci sono meno di quel che si potrebbe credere ce ne sono tanti di personaggi minori che bene o male sono già stati spizzicati qui e là nei vari trailer sneak peek teaser clip però le vere bombe sono stati bravissimi a tenerle segrete e io sono personalmente impazzito quando le ho viste per quanto la maggior parte le avessi preventivate non tanto per i rumor ma perché proprio me lo sentivo dentro che ci sarebbero state ma è stato comunque meraviglioso vederle a schermo non solo non sono gratuite fan service come è capitato ad esempio per doctor strange in multiverso of madness per seguire la scia di no way home sono anche ben contestualizzate all'interno di quel che succede nella pellicola quindi come mera pellicola di intrattenimento siamo sul k2 meraviglioso mi sono divertito dall'inizio alla fine sono uscito pienamente soddisfatto i problemi nascono nel momento in cui si va a ragionare sulla contestualizzazione di quest'opera all'interno dell'mcu a me non interessa più di tanto perché si può rispondere continuamente a tutti gli appunti e le opposizioni che vengono fatte al film dicendo è deadpool chi se ne frega ed è effettivamente così e penso fosse anche il volere di sceneggiatori di ryan reynolds di sean levy rendere la pellicola in questo modo non c'era nessuna pretenziosità anzi sarà anche un modo paraculo di pensarla ma penso che fosse stato questo il loro ragionamento però c'è comunque da farlo il ragionamento riguardo la contestualizzazione all'interno di questo macro universo narrativo perché a livello di sceneggiatura ci sono numerosissimi problemi per quanto riguarda la storia il villain alcuni momenti e sì è per questo che ho lanciato la provocazione no way home 2 perché alla fine è una gigantesca giostra strapiena di fanservice che è un immenso omaggio a quello che è stato il mondo fox lo avevano già annunciato erano stati trasparenti e onesti l'avevano detto fin da subito nell'intervista questo film omaggerà il mondo fox c'è stato chi ha detto chi se ne frega ma poi guardandolo in realtà non mi sono sentito di dire chi se ne frega anzi mi si è anche un po stretto il cuoricino quando sono arrivato i titoli di coda che sono meravigliosi assolutamente non schippateli che sono proprio una grande celebrazione di quel mondo perché il concetto alla base di questo film è anche il una sorta di motto medievale quando si diceva che noi siamo nani sulle spalle di giganti perché come ci insegna la storia nessuno di noi potrebbe fare quello che fa senza le persone che sono venute prima di noi quindi questo celebrare i film di prima per quanto alcuni siano anche delle pecorate è stato necessario affinché nascesse le mcu ci fossero i film di deadpool e così via e io anche questo specifico messaggio l'ho apprezzato ritornando alla questione perché ho detto no way home 2 perché appunto dicevo è una gigantesca giostra di fanservice però rispetto a no way home funziona molto di più perché perché è deadpool e non ti aspetti il fanservice al servizio di una grande storia che funga anche da tassello all'interno di una trama più grande di un universo più grande di un mondo più grande che quello dell mcu semplicemente deadpool ti aspetti le cazzate il divertimento i deliri le follie il nonsense e ci sta alla grandissima ma al contempo no way home può anche essere considerato per certi versi migliore e complementare rispetto a questo deadpool e wolverine perché per quanto lì ci fossero numerosi problemi c'era una storia c'era un'evoluzione dei personaggi si andava da qualche parte il fanservice era ben gestito anche lì perché i tre spider-man che hanno generato un'esplosione emotiva in tutti erano comunque ben gestiti i dialoghi che c'erano tra di loro erano interessanti intelligenti curiosi il problema di quel film era comunque una sceneggiatura che faceva a sua volta acqua da tutte le parti troppe battute imbecilli una regia pressoché oscena e quindi andando a guardare si possono dire appunto complementari quel che hanno way home non lo ha deadpool e wolverine quello che ha deadpool e wolverine non lo hanno way home io li ho apprezzati generalmente entrambi per quanto ne riconosca i limiti perché mi sono divertito ed emozionato in sala e alla fine questo che deve fare un film una pellicola per quanto ci siano persone che non ritengono nemmeno questo tipo di opere dei film io non sono d'accordo tutto quello che va in sala è un film io appunto li ho apprezzati certo se voglio opere autoriali guardo killers of the flower moon guardo openheimer guardo napoleon di ridley scott per dire per quanto anche quest'ultimo che ho visto di recente su cui farò un video non è che mi abbia proprio fatto impazzire quindi esiste anche il puro divertimento deadpool è il gesù della marvel sì perché lo ha salvato economicamente no perché appunto nella saga multiversale non sposta a nulla a livello di sceneggiatura ci sono problemi a partire dalla tva il tirare in mezzo la tva era un terrore era un qualcosa che terrorizzava un po tutti perché già il multiverso è parecchio incasinato e ad ogni nuovo prodotto dell'mcu sembra che questo multiverso abbia regole diverse sia differente funzioni in modo appunto opposto a quello di un altro prodotto collochi bene o male erano riusciti a creare un qualcosa che sembrava averli indirizzati sulla strada giusta grazie al finale della seconda stagione che però purtroppo qui viene sminchiato nella tva ci sono personaggi che non si erano mai visti che agiscono in modo idiota e randomico sì mister paradox per quanto sia molto divertente da vedere perché interpretato anche da un bravissimo attore matthew mcfaden comunque è scusatemi un personaggio del cazzo introdotto ex novo che fa scelte imbecilli e che ci mostra di nuovo come funziona la sacra linea temporale il multiverso le valierine dei vari universi anche qui vengono introdotti nuovi concetti nuove regole l'ancora e quindi se si accende il cervello su quelle cose probabilmente il film inizi quasi a detestarlo ad infastidirlo ma solo se tu sei andato in sala con delle aspettative riguardo questa pellicola come quella che avrebbe fatto ripartire tutto il carrozzone a livello di trama orizzontale ma non è assolutamente quel che vuole fare ha usato la tva come pretesto per creare questo gigantesco omaggio alla fox anche andando avanti ci sono queste problematiche con la tva e aumentano poi addirittura con la villain che per quanto anch'essa sia interpretata da una bravissima attrice emma corrin e per quanto effettivamente funzioni ha delle motivazioni piuttosto basilari imbecilli superficiali serve solo perché appunto in una pellicola del genere devi dare un villain a cui gli eroi si devono opporre a cui gli eroi grazie a cui gli eroi avranno un'evoluzione nel loro percorso per tutta la durata dell'opera quindi ci sono delle problematiche però sta anche tutto nel modo di porsi di fronte a questa pellicola se tutti si aspettavano il gesù della marvel che facesse ripartire la trama e desse un grosso impatto anche magari con una scena post credit che diceva adesso stiamo per fare questo lasciate perdere questa pellicola non fa per voi se invece siete andati come me consapevoli che sarebbe stata una gigantesca baracconata che avrebbe solo regalato due ore di sanissimo divertimento con impatto zero sull'MCU allora è la vostra oasi il vostro paradiso il vostro eden detto questo adesso vorrei fare anche qualche spoiler più che altro per citare quel che mi è piaciuto di più in realtà qualche probabilmente ripercorrerò tutto il film perché c'è davvero tanto che mi è piaciuto andando ad escludere le problematiche di cui ho parlato a livello di storia il film inizia già con dei titoli di testa meravigliosi è una caratteristica anche questa del franchise perché anche nel primo e nel secondo io li avevo adorati ma in questo caso si sono superati perché il film parte con wade che disseppellisce lo scheletro di adamantio di wolverine del wolverine di logan e poi lo utilizza per massacrare gli agenti della tv e mentre con dei ralenti ben studiati a livello registico partono appunto i titoli di testa già lì ero decisamente a bordo la seconda scena anche mi ha divertito perché c'è stato il primo cameo inaspettato che sono stati bravi a tenere segreto e che fa parte dell'mcu e non del mondo fox ovvero l'happy ogan di john favreau che però crea un problema nel momento in cui scopriamo che fa questo colloquio a wade perché wade vuole entrare negli avengers viene ovviamente scartato ci sono delle battute vincenti già in questo frangente però poi con l'avanzare della pellicola scopriamo che questo questo colloquio è l'essere stato rifiutato dagli avengers e ciò che ha mosso wade ad andare in depressione a smettere di essere se stesso e ad andare in crisi nella sua relazione con vanessa peraltro lui era arrivato su terra 616 grazie al macchinario di cable che vedevamo alla fine di red pool 2 quindi è stato anche un buon collegamento col precedente capitolo perché come terzo capitolo di red pool è perfettamente in linea e coerente questa cosa mi aveva fatto storcere il naso il suo lasciarsi con vanessa perché il loro legame sembrava talmente forte e indissorubile che vederlo incrinarsi per una puttanata del genere mi ha un po' infastidito però fortunatamente alla fine del film si riaccende un lumicino di speranza per un ritorno di fiamma mettiamola così proprio sul personaggio di vanessa e sugli altri anche c'è da soffermarsi un attimo perché come era prevedibile tutto il cast e la family che wade wilson ha riunito attorno a sé hanno un ruolo piuttosto limitato sono presenti nell'incipit e nell'epilogo ma fungono fortunatamente anche da motore e da cuore emotivo del film per quanto riguarda la parte ryan reynolds deadpool perché lo scopo per cui lui agisce si muove vuole wolverine per salvare il suo universo proprio perché vuole salvare il suo universo non inteso come mondo nella sacra linea temporale ma il suo personalissimo universo che rappresentato da nove persone che sono la sua famiglia è una cosa molto bella mi è piaciuta perché dimostra anche che questo film come esattamente i due predecessori oltre ad essere una gigantesca barzelletta spassosa in costume è anche piena di sentimento di cuore di messaggi positivi ovviamente in puro stile deadpool poi nascono i problemi nel momento in cui per l'appunto con il flashback vediamo come mai wade ha avuto a che fare con la tv e ci sono subito una sequela e una raffica di battute meta narrative che riguardano la disney la fox e chi più ne ha più ne metta e ci ritroviamo a seguire wade nelle sue peripezie nel cercare un wolverine che gli serve per salvare il suo mondo e c'è questa sequenza questa carrellata meravigliosa in cui wade salta da un universo all'altro e trova vari logan wolverine e c'è il delirio più assoluto lì sono letteralmente impazzito perché vediamo un wolverine bassissimo nano e lì sono morto dal ridere perché è un riferimento anche ai fumetti perché come molti sapranno wolverine nei fumetti è un tappo è alto un metro e mezzo un metro e sessanta non ha il fisico statuario di Hugh Jackman è anche piuttosto brutto e rozzo quindi vedere quell'omaggio anche ai comics mi ha spezzato anche perché in questo tutti quelli che lavorano ai film di deadpool sono molto bravi anche raya reynolds è maestro nell'inserire questi riferimenti perché conosce la materia la conosce anche molto bene c'è il wolverine di apocalipse quello crocifisso su questa gigantesca x gialla c'è il wolverine senza una mano di un'altra run fumettistica il guercio ci sono un po tutti ma c'è la seconda bomba a livello di cameo che io non potevo crederci perché c'è il wolverine di henry keville si era vociferato di trattative tra la marvel e per l'appunto henry keville tutti pensavano magari chi lo sa una presa in giro di superman visto che nella marvel è presente lo squadrone supremo che è una parodia della justice league si pensava appunto a wolverine e quindi ritrovarmelo per questo cameo cazzaro in questo contesto mi ha semplicemente mandato invisibilio una volta poi che trova il suo logan che è quello poi del film e che per l'appunto non è quello di logan ma è semplicemente un altro wolverine che ha deluso il suo mondo e che riceverà proprio in tal senso approfondimento a tre quarti di pellicola i nostri si ritrovano ad andare contro la tv e perché hanno sgarrato perché non era una scelta sensata per paradox prendere un wolverine per sostituire quello morto di logan che avrebbe fatto collassare la linea temporale di deadpool e anche questa è una cosa che stride perché da quel che ci viene suggerito e in questo non vedo l'ora di rivederlo per vedere se abbiamo capito male se c'è stato un po di confusione nei dialoghi mi sono perso io qualcosa sembrerebbe che l'universo di deadpool sia quello di logan ma non avrebbe alcun tipo di senso perché ci può anche stare che siano nello stesso universo ma non avrebbe senso quel che si vede in deadpool 3 perché logan muore nel film logan in una sorta di futuro post apocalittico in cui ormai tutti i mutanti sono estinti che non è il futuro in cui c'è deadpool deadpool si trova tra virgolette ai giorni nostri quindi in un universo in cui wolverine dovrebbe esistere ed essere vivo se c'è magari logan può essere il futuro di deadpool ma non ha senso che lui debba andare poi a prenderlo nella sua tomba perché dovrebbe essere già vivo nel suo universo invece qui ci viene detto che siccome muore la linea temporale di deadpool sta collassando insomma c'è un po un garbuglio inutilmente complesso riguardo le linee temporali ma quando si va a giocare con la materia viaggi nel tempo senza starci molto accorti succedono questi patatrac e questi polpettoni con poco senso però a parte questo i nostri vengono quindi proiettati nel vuoto con i bastoni tipici della tv e qui parte tutta la storia con i nostri che vogliono tornare alla tv e per sconfiggerla e ripristinare il loro mondo si ritrovano a scoprire che una delle ville in del vuoto che sta tenendo le redini di tutti i malvaggi e che si sta divertendo come regina del vuoto stesso è la sorella di chers xavier che è interpretata da appunto emma corrin che è stata bravissima per quanto io abbia detto non è brillantissimo come villain però è stata molto brava anche lei si vede che si è divertita un mondo e qui parte un'infinità di battute riferimenti cameo al mondo dei x-men e non solo su tutti ovviamente chris evans chris evans che ce l'aspettavamo ce l'aspettavamo io in primis me lo aspettavo perché anche lui aveva già fatto un cameo in free guy e ovviamente interpreta la torcia umana ma il modo in cui ci viene rivelato che la torcia è non capitano america anche mi ha fatto davvero sganasciare ed è un cameo in realtà che non è un vero e proprio cameo ma una piccola parte un ruolo secondario all'interno del film che ha anche un suo strascico nella scena post credit che non vi spoilerò ma è stata meravigliosa e ce ne sono tanti altri minori sabertut che si è già visto a zazelli lady death strike ce ne sono davvero tantissimi ma bene o male sono tutti gestiti uno che non era stato spoilerato nei vari video era e trailer era il fenomeno di x-men della saga di x-men di brian singer ed è anche per questo che c'è una battuta molto divertente di wade che dice ah sei tu che stavolta interpreti fenomeno perché è un riferimento a deadpool 2 in cui a interpretare fenomeno era ryan reynolds stesso ma è strapieno di questi riferimenti magari sono un po troppo specifici per gli addetti al settore per il pubblico generalista può essere difficoltoso cogliere queste sfumature ma per il pubblico generalista ci sono tante altre battute generali che fanno veramente spaccare dal ridere su tutte a me hanno piegato in due quelle su pinocchio e sul capo scout chi guarderà il film capirà e il film va avanti e proseguono i cameo proseguono i riferimenti ed è proprio qui il punto non è che ci sia chissà quale storia è tutta una sequenza di scene che si susseguono salta fuori nice pool che è un altro personaggio sempre interespetato da ryan reynolds delirantissimo a cui è stata relegata una delle scene più divertenti nello showdown finale in cui io anche lì ero davvero piegato in due ovvero quando nice pool purtroppo muore c'è la meravigliosa dog pool ovvero la cagnolina più brutta della gran bretagna che è stata usata meravigliosamente come mascotte in questa pellicola c'è poi il team che viene utilizzato da deadpool e logan per andare a sconfiggere cassandra nova che è formata da gambit interpretato da chenintetum e anche questo me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere è però è un riferimento che magari molti non coglieranno perché fa per l'appunto riferimento al fatto che per anni e anni si è vociferato del film su gambit e l'attore protagonista dovesse essere chenintetum ma il progetto era sempre lì per avviarsi non non ha mai visto la luce è stato cancellato e quindi qui finalmente lo vediamo nei panni di questo supereroe tra l'altro anche lui ha dei momenti abbastanza spassosi poi c'è electra di jennifer garner che però era già stata anticipata e confermata all'interno del cast ma la sorpresa che più mi ha fatto piacere che ho adorato anche se di questa si era ascoltato qualche rumor ma sono stato comunque entusiasta di vederlo a schermo il blade di wesley snipes davvero meraviglioso poi non so quest'uomo come faccia non invecchiare mai e c'è un'altra battuta vincente proprio di wesley snipes che dice io sono l'unico blade nessuno mi interpreterà mai sarò l'unico interprete che anche questo però un riferimento agli addetti del settore che sanno che il film di blade dell mcu sta avendo numerosi problemi è stato riscritto più e più volte e anche l'attore che lo interpreterà marshall ali si sta cominciando a spazientire poi si arriva comunque in un modo o nell'altro allo showdown finale fa parte ovviamente del dello squadrone del d'assalto nei confronti di cassandra nova anche x 23 di daphne king anche questa che è stata spoilerata tra virgolette nel final trainer e c'è anche un motivo per cui è stata mostrata nel final trainer e non tenuta come sorpresa perché daphne king voleva partecipare alla premiere della pellicola ma se avesse partecipato alla premiere sarebbe stata sgamata tutti avrebbero capito che era nel film e quindi tanto valeva buttarla già nel final trailer per permettere all'attrice di partecipare alla kermess è un motivo abbastanza particolare però alla fine ci sta non è stato questo questo rovinarci chissà quale grande sorpresa poi c'è lo showdown finale in cui intervengono tutte le varianti di deadpool a cui sono presenti anche i deadpool corpse che gli amanti dei fumetti conoscono molto bene qui partono sequenze a raffica di azione meravigliosa soprattutto il piano sequenza in cui wolverine e deadpool cercano di abbatterli che è una sequenza un piano sequenza strutturato in orizzontale come i bit em up a scorrimento i videogiochi picchiaduro che si muovevano a scorrimento orizzontale ed è fantastica e tra l'altro contiene ben due sorprese perché come molti immaginavano lady deadpool e blake lively ovvero la moglie di ryan reynolds anche se non mostra mai il volto ma viene confermata dai titoli di coda ma c'è anche un'ulteriore sorpresa perché leggendo i titoli di coda ho notato che deadpool cowboy è interpretato da matthew mcconaghy ecco lui avrei voluto vederlo anche in volto per far magari esaltare un po il pubblico in sala dopodiché anche il finale è parecchio tirato via perché c'è questo pretesto di questo macchinario che permetterà cassandra nova di raggiungere i suoi scopi si scoprirà che piro un altro dei personaggi della fox era la spia di paradox all'interno serpe in seno all'interno della cerchia di cassandra nova insomma tutto pretestuoso affinché la storia vale avanti e ci mostri deadpool e wolverine che salvano ovviamente il mondo di deadpool a cui poi lo stesso logan entrerà a far parte della big family del mercenario chiacchierone la scena in cui salvano effettivamente questo mondo scusate se ogni tanto la luce si sminchia ma fuori sembra che il tempo venga regolato da uno psicopatico perché esce il sole e poi si annuola purtroppo la mia camera non ha chissà quale grande qualità perdonatemi e in cui salvano il mondo e si tengono per mano è molto significativa e molto intensa e anche quella di cui parlavo prima che è molto emotiva e quasi fa scendere la lacrimuccia ma anche qui c'è quell'elementino che vuole un po' sdrammatizzare ovvero quando si distrugge la parte superiore del costume di logan si vede quanto è in forma Hugh Jackman e c'è il buon deadpool che gli spizza gli addominali e li guarda bello soddisfatto anche lì ho riso davvero tanto il finale è sì piuttosto zuccheroso come molti avevano preventivato deadpool non sarebbe stato incluso nella terra principale dell mcu ma avrebbe continuato a far parte del suo mondo sarebbe ritornato dalla sua famiglia ed è anche giusto così perché è anche questo che dovrà andare a far funzionare secret wars perché cominceranno a servire parecchi universi con dei personaggi a cui noi ci affezioniamo per poi vederli collidere infatti anche fantastic four sarà ambientato in un universo alternativo se tutti si ritrovassero nella stessa terra non ce ne fregherebbe nulla di un mosaico di varie terre che si scontrano perché parteggeremmo solo per una terra in particolare invece così abbiamo personaggi sparsi qui e là piuttosto interessanti come anche i bestia del finale di the marvels in cui si ritrova con monica rainbow insomma può essere comunque un piccolo elemento che può aiutare in vista di secret wars non smuove nulla come ho già detto a livello di storia però è stato davvero piacevole la carrellata dei titoli di coda mi ha stretto come dicevo il cuore perché presenta dietro le quinte making of dei vari film della fox tranne di blade perché se non erro i film di blade erano della new line cinema quindi non sono presenti in questa carrellata ma è bello vedere le prime volte di jackman le sue prime prove d'attore l'ansia che lo muoveva perché si ritrovava in questo contesto in cui era il meno conosciuto ci sono anche i vari ian mckellen michael fassbender tutti in personaggi del franchise ovviamente anche chris evans il suo johnny storm i vari interpreti di johnny storm come michael b jordan i vari interpreti della cosa insomma c'è questa lunghissima carrellata che vuole omaggiare questo universo fox dicendogli semplicemente grazie ed è una cosa molto bella e anche bello il fatto che abbia ryan reynolds voluto dare una degna conclusione ad alcune storie di quei personaggi questo dovrebbe fungere in sostanza da chiosa all'universo fox e dire ormai è solo mcu adesso possiamo ripartire anche questo può essere anche questa può essere un interessante chiave di lettura quindi andando a concludere ho parlato anche troppo ma d'altronde non vedevo l'ora di parlare di questo film io sono rimasto decisamente soddisfatto con qualche riserva per quanto riguarda ovviamente il contesto in cui è stata inserita questa pellicola chissà magari uscirà una versione stesa in blu ray come per il secondo non credo ma ci spero vivamente d'altronde l'hanno fatto con quelle scene orripilanti per no way home perché non farlo con dead bull 2 in cui sono sicuro che c'è del girato in più che meriterebbe di essere visto io l'ho amato mi sono divertito come un pazzo ho sofferto per arrivare a questa conclusione perché avevo davvero un turbinio di pensieri che necessitavano di essere raffreddati non si sono ancora raffreddati del tutto sono ancora mosso da questa foga dopo la visione comunque per me è stato decisamente un successo una bella mossa da parte dei marvel studios sicuramente le loro casse torneranno a respirare ma non è certo questo che dovrà essere il nuovo punto di partenza per il multiverso per vedere il nuovo corso della marvel si aspetta capitano america 4 comunque andatelo a vedere perché vi divertirete come dei pazzi grazie a tutti per avermi seguito fino a qui ci vediamo al prossimo video